L'ho fatto di nuovo e la mia schiena ringrazia 19 kg di stampanti 3D e questa è una stampante molto particolare è una stampante molto particolare e ultimamente lo dico per tutte ma c'è una semplice ragione che vi ho ormai parlato di troppe troppe stampanti 3D sul canale e sia voi siete stufi di stampanti mediocri sia io dopo 40, quante saranno state, stampanti ho allenato l'occhio a riconoscerle ancora prima che me le mandino e quindi sto ultimamente cercando di fare sempre più una selezione su quali stampanti mostrarvi in modo da mostrarvi solo la creme della creme della creme detto questo, questa stampante in realtà, la CR10 Smart Pro, perché questa è la nuovissima Pro per questa stampante tutto è nato quando Alessandro Morolla che ha recensito la CR10 Smart e basta senza il Pro mi ha detto guarda è una delle migliori stampanti che io abbia mai provato silenziosissima, super connessa, costa un pochettino ma ne vale la pena allora diamo un'occhiata ah bello, mi mette la tabella delle temperature piatto, temperature nozzle e retraction e velocità di retraction per tutti i materiali carino il G-code di inizio e il G-code di fine, sicura istruzioni, un quarto di chilo di filamento bianco che potrei anche utilizzare essendo Creality una roba da di troppi spinotti che ho paura di rompere guardate che aspetto fragile che ha uh abbiamo l'auto level, fantastic belle ventole con l'anima metallica copertura in silicone per il nozzle, mai scontata maniglia portafilamento con il sensore di filamento vitoni, ci serviranno per quel poco assemblaggio che rimane da fare due belle sbarre ciccione e queste sono molto utili un display vagabondo, quello che pare un cavo per il display vagabondo un piatto, ma che cos'è questa roba? guardate che strano materiale ed è tutto molto piccolo eh questo è il mio dito mignolo in confronto ha questo effetto brillantini di natale, bronzo ah ma perché è flessibile ma che strano piatto ma c'ha anche la luce oh oh, nuova stampante preferita è la mia prima stampante con le luce è veramente poco utile una luce in una stampante 3D eh però tiriamo su la base prendendola per le rotaie che sappiamo essere robuste e spaziosia finalmente ci vediamo in faccia vi raccontavo dopo che Morolla mi ha detto è una delle migliori stampanti che abbiamo provato ho scritto subito Creality mi mandate la CR10 Smart? hanno detto aspetta due mesi e ti mandiamo quella nuova la CR10 Smart Pro ho aspettato due mesi ed eccoci qua molto semplice la storia allora era parecchio tempo che non vedevo una stampante Creality ed è molto molto diversa dalle stampanti che vediamo di solito guardate ad esempio queste bellissime ruote in alluminio cromato di rosso questo piatto stranissimo che prima o poi capiremo ma magari si stampa direttamente qua su qualche altro pregevolissimo dettaglio sempre in alluminio non in plastica e vi assicuro che a occhio nudo si notano queste accortezze come si nota la presenza di un piccolo cassettino ehi salve ok poi abbiamo qua gli attacchi per il display che adesso connetteremo abbiamo qui la fessura per la scheda SD mentre cosa stai scherzando da questo lato abbiamo un pulsante di accensione bello questo qua si illumina anche sicuramente la USB per connetterci una webcam ragazzi la webcam integrata già supportata e la USB-C e la Ethernet ma di cosa stiamo parlando ma che sta ok ok si preannuncia particolarmente smart questa CR10 Smart mi piace molto concettualmente che l'alluminio sia nudo nel punto in cui andrà attaccato l'elemento verticale della stampante perché così le tolleranze dimensionali sono più precise non essendoci vernice in mezzo che potrebbe essere stata applicata in maniera non uniforme siamo più sicuri che quando attacchiamo l'elemento verticale questo andrà in posizione dritto ok speedrun a montarla che leggero elemento verticale molto più leggero del solito per quanto abbia due motori dell'asse Z vediamo se trovo la brugolina per montare la stampante eccole qua tutte le brugole ma ragazzi io non riesco a capire questo tipo di piatto lo guardo e il mio cervello non riesce proprio a comprendere come sia possibile è tipo le scimmie che guardano i trucchi di magia bene piatto avanti connetto i connettori sono tutti di misure diverse sì quindi non vi potete sbagliare vi ho mostrato prima però che ci sono questi paloni giganti perché? perché questo qua è una feature del CR10 dalla prima Creality CR10 in poi ci sono sempre questi pali di rinforzo che secondo me sono tanta roba perché evitano che la sezzetta sballonzo lì avanti e indietro quindi vite lunga rondella in mezzo ci mettiamo il nostro occhiello in cima al palo così vite palo rondella e la avvito qua in fondo vite corta senza rondella e la avvito qua di sopra tre viti per fissare l'estrusore che mi sarebbe piaciuto già trovare montato ma non si può pretendere di avere la botte piena e la stampante ubriaca e poi ci manca solo il nostro display ah vabbè e la maniglia no fermi avevo detto vabbè faccio un taglio molto il display non glielo mostro e invece ho scoperto un sacco di cose allora la prima è un bellissimo attacco a incastro per il nostro display e non con le viti seconda che il reggi filamento va in castro terza che questo piatto è normale che sia così questo materiale si chiama pay e in teoria è una figata anzi qualcuno su instagram mi ha addirittura risposto hanno copiato il piatto da prusa io non sapevo che prusa avesse i piatti in pay ma a quanto pare sono anche acquistabili proprio singolarmente e praticamente se vuoi un piatto con migliore aderenza ma la superficie degli oggetti che non è liscissimissimissimissima lo usi da questa parte se no essendo magnetico lo stacchi e se vuoi gli oggetti liscissimi lo usi da quest'altra fun fact quelle impronte lì sono di qualche operaio cinese non sono sicuramente mie ma solo perché questa mia stampante è un prototipo che hanno mandato fuori prima di quelle per i consumatori voi non avrete impronte sul piatto e poi il fatto che sia magnetico è un attimo staccare gli oggetti perché lo tiri via lo pieghi e stacchi anche le robe più grosse e più attaccate senza doverlo strisciare con palette oggetti metallici bene in pieno stile Creality abbiamo un coso gigante qua che attaccherò tra un attimo perché vedo un paio di viti per reggerlo e quindi non ho voglia di farlo adesso attacco giusto due connettorini qui dopo ci sarà il cinturone qua sopra vi volevo mostrare che abbiamo dopo tutta l'illuminazione qua sopra la vedete ah guardate la stampante dal lato vedi ci sono questi supporti che rendono molto stabile la parte verticale perché creano una struttura triangolare quasi un trapezio in realtà e lì sopra abbiamo la luce ma ragazzi in quel sacchettino che pensavo fosse il display ho scoperto che abbiamo la webcam questa porta usb non è per connetterci una webcam è per connettere la webcam a marchio Creality ma e questa qua palesemente o tiri fuori il piedino da qua sotto è magnetico è magnetico ah no forse è solo gommata per appendersi non lo so è la prima volta che mi trovo una stampante 3D con webcam già inclusa e vabbè comunque abbiamo il cavo usb che si attacca oppure ci viene dato in confezione questo piccolo treppiede con le zampe flessibili vedete che possiamo attaccare un po' ovunque lo avvitiamo qua sotto alla webcam e possiamo metterla come piccolo cosettino che sta a guardare la stampante da lì posso appenderla ai tubi qua posso appenderla a una mensola di un mobile che ho sopra la stampante insomma qua con le zampe flessibili posso fare quello che mi pare ma che figata e cosa ci servirà la webcam ci servirà perché questa è una stampante molto molto smart come vi dicevo perché è smart perché è connessa in cloud non ha solo il wifi come hanno tante stampanti che dopo però devi installare il plugin di cura e devi tenere il computer attivo e connesso perché attraverso cura devi mandargli riga per riga del gcode e tutte le istruzioni e se si disconnete il computer o il wifi o ti si riavvia il wifi qualsiasi roba la stampa si interrompe è un disastro no infatti non mi avete mai sentito lodare il wifi nelle mie recensioni delle stampanti 3d lo nomino è una roba che c'è però per le stampanti normali serve a poco tipo tutte le mie stampanti hanno il wifi e tipo non lo uso mai ma questa è diversa perché questa qui è il cloud proprio questa qui in teoria adesso vediamo ma in teoria proprio tu vai sul sito carichi i file la stampante li riceve si fa lo slicing da sola elabora digerisce e dopo però ce li ha salvati all'interno di se stessa e stampa per i fatti suoi quindi questa stampante è perfetta per cose autonome ed è per quello che è così importante una webcam in dotazione perché così posso dopo lasciare la stampante neanche in un'altra stanza in un altro edificio addirittura in un'altra città posso essere altrove che mi faccio i fatti miei e la stampante posso avviarla come se fosse con Octoprint e posso monitorarla come se fosse con Octoprint con connessa a una webcam in pratica al prezzo di una stampante abbiamo una stampante un raspberry una webcam e lo sbatti di installare configurare e far funzionare Octoprint molto bene allora siamo al giorno successivo vi ho aspettati per la prima accensione intanto ho connesso la usb della webcam vediamo se riesco a inquadrarvi il display perché mi aspetto grandi cose dal momento dell'accensione devo tenere premuto sì sì devo tenere premuto ok abbiamo un logo Creality che si forma eeeh ma che luce beh dai anche bel display lingua uh c'è l'italiano wifi ma quanta roba e il touch è super responsivo cioè non devi premere tanto comunque il piatto è totalmente una decorazione natalizia adesso adesso che abbiamo la luce qua sopra accesa comunque sì oggi come vi ho detto siamo al giorno dopo nel frattempo avete continuato a rispondermi mille alla storia Instagram di ieri in cui vi mostravo questo piatto dicendo ah quel piatto è la vita quel piatto ti aderisce perfettamente a tutte le cose addirittura anche la Flying Bear non lo sapevo si è messa a produrre questo tipo di piatto per la Flying Bear Ghost 5 acquistabile dal sito come accessorio per la Ghost 5 non lo sapevo non l'avevo visto ma sembra che sia la rivoluzione dei piatti che sia una cosa fenomenale adesso lo proviamo allora io qua sulle mie istruzioni trovo un QR code da scansionare installo l'applicazione faccio il login che posso tranquillamente fare con Apple uh che bello hanno anche Google e i servizi occidentali ah scannerizza QR code niente non lo vuole questo quello piccolino quello piccolino inquadrato dall'altra parte ah ma c'era qui il QR ci sono troppi QR su questa stampante ah giusto si potrebbe connettere col cavo Ethernet uh c'è anche il Bluetooth noi andiamo con il Wi-Fi per ora connettiti ma come connection failed proviamo con il Bluetooth secondo me è perché quando io registro questo video questa stampante non penso sia ancora uscita quindi magari non hanno ancora aggiornato l'applicazione è tipo quando mi mandano i droni DJI in anteprima che mi devono mandare anche l'applicazione di DJI fatta apposta per supportare dei prodotti che non sarebbero supportati adesso purtroppo in Cina sono le 10 e mezza di sera quindi sicuramente a Creality non stanno lavorando ma stasera che domani mattina per loro gli iscrivo mi faccio mandare il firmware nuovo perché questa stampante non c'è ancora sul sito Creality e quindi c'è il download del firmware per tutte le possibili stampanti tranne questa che non esiste ancora vabbè risolvo questo piccolo qui proprio qua da avere i prodotti in anteprima da recensore noi intanto però godiamocela come stampante prima di pensare alla connettività guardate che bello questo mollettone per aprire l'ingresso al filamento di solito c'è sempre una robetta di plastica da premere mai visto così sexy bene andiamo alla home ah no questa qua è la home dell'interfaccia ok per far partire la stampa no eccolo qua home di tutti gli assi molto molto silenziosa home della 6z non sono sicurissimo che questo firmware sia pienamente funzionante bellissimo il fatto che il cassetto sia magnetico ok devo dare una stretta a qualche bullone del piatto qua sotto cosa che vi consiglio di fare sempre in tutte le stampanti cioè non di stringerli ma di controllarli in tutte le stampanti e clic devo fare la calibrazione del piatto perché se la stampante ha l'auto level ci sono 4 rondellone perché gli si dà una calibrata di massima proprio super alla buona con le rotellone giusto perché essendo un piatto gigantesco più o meno gli diamo la forma di un piano che non sia proprio tutto piegato e dopo lei si fa la sua matrice di punti in modo che sa perfettamente quanto il piatto ha concavità e convesità in ciascun punto quindi auto level è normale però abbiamo anche lo srotellamento per dargli una sgrossata solo la prima volta poi non le toccheremo mai più le rotelle ah esatto nella sezione level abbiamo auxiliary level cioè livellamento ausiliario gli stiamo dando un aiuto partiamo dall'auxiliary e dopo vediamo il risultato della stampa di benchmark e la connettiamo a internet allora tornando a voi un po' sconfitto se devo essere sincero un po' sconfitto e un po' demoralizzato da questa stampante che si chiama smart ma poteva esserlo di più allora ho stampato il benchmark guardate l'aderenza di questo piatto boom l'oggetto è appoggiato in realtà l'avevo rimesso adesso in posizione però l'ho dovuto rimettere in posizione proprio perché spostando la stampante dal banco da lavoro a qui lui aveva già cominciato ad andarsene in giro quindi questo piatto è fantastico come aderenza certo è pur vero che mi fa la stessa texture un po' effetto pelle non saprei come definirlo così anche sugli oggetti oggetti che se vogliamo lisci usiamo l'altro lato del piatto cioè lo giriamo però l'aderenza dovrebbe essere ottima su entrambi i lati ecco c'è una cosa che però avrete notato mancano totalmente le spire qua di sopra non ho idea perché facilmente va solo calibrato l'estrusore ma non si possono settare i passi per millimetro dall'interfaccia qui come ad esempio si può fare per la FL Sun se non sbaglio bisogna connetterla al computer per cambiarli però probabilmente l'estrusore tende leggermente a sottoestrudere dico probabilmente perché in realtà non ne sono sicurissimo perché se vado a guardare il mio test dei pioli tipo nessuno dei pioli esce vediamo se riesco a far uscire almeno il primo senza farmi male no 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 questo test ha fatto un punteggio assurdamente basso questo stampante dei pioli anche spingendo non esce nemmeno il primo quindi non è che sottoestrude cioè non è che butta fuori troppo poco filamento perché sennò questi qua sarebbero belli larghi nella loro sede invece semplicemente si è perso di fare le spire qua sopra per quanto riguarda i ponti benino dai ho visto di meglio ma ha fatto piuttosto bene non abbiamo ringing e non calcolo neanche il punteggio perché è veramente talmente basso che non ha senso neanche calcolarlo io adesso ve lo mostro da tutte le angolazioni se volete deducetevi voi il punteggio qua sugli overhangs comunque ne soffre le tolleranze dimensionali fate conto che saranno buone ma non buonissime come tutte le stampanti direct drive anche tutte le artiglieri tendono a performare leggermente peggio sulle tolleranze dimensionali perché hanno la testa di stampa un po' più pesante quelle Bowden chiaramente hanno l'estrusore fuori dalle valle e quindi la testa è molto leggera e quindi performano meglio sulle tolleranze dimensionali veniamo alla parte dolente anzi una delle due parti dolenti l'altra è il prezzo la parte dolente è l'essere smart quello è veramente dolente e non ha senso perché è parte del nome della stampante ma se devo essere sincero non mi sento neanche di giustificarla dicendo ah no ma è una stampante che mi hanno mandato in anteprima è un prodotto beta cose varie perché numero uno mi è rimasta ferma un mese in dogana quindi comunque da quando me l'hanno spedita a quando mi è arrivata è passato tipo più di un mese e stamattina mi hanno detto no no guarda non ci sono aggiornamenti firmware vuol dire che per qualsiasi problema a questa stampante e appunto i problemi adesso ve li dico se ne sono parecchi non è uscito un firmware che lo fixasse non sono problemi noti o non sono problemi che sono stati risolti in un mese e mezzo considerate le tolleranze di tempo che sicuramente il firmware non uscirà domani e non era uscito il giorno prima che me la spedissero quindi il firmware è quello che avrete sicuramente anche voi l'applicazione è quella Creality generale quella che usi anche per le altre stampanti connesse l'ho trovato tutto un po' acerbo se devo essere sincero questo non esclude che un domani con qualche aggiornamento software che si può fare anche da le... cioè loro possono pushare dal server aggiornamenti software tu ti fai il tuo bel aggiornamento e hai una stampante fantastica questa cosa non è esclusa ma ad oggi 23 dicembre 2021 questa stampante ha tipo 700 euro non mi sentirei di consigliarla a nessuno il grosso problema che ho riscontrato è che non si connette cioè non c'è modo di farla connettere a wifi sicuramente altre stampanti della stessa marca si connetteranno sicuramente magari la CR Smart senza il Pro quella che aveva Morolla si connette perché so che lui aveva usato un sacco il cloud e gli era piaciuto e l'aveva trovata bella come esperienza di utilizzo però su questa stampante non c'è modo di connetterla ragazzi sto provando con il cavo Ethernet non è che dici magari c'è un bug sul wifi ho provato anche con l'Ethernet ho provato anche con il Bluetooth dopo tre giorni di incessanti tentativi di chat diretta con quelli di Creality che la cosa migliore che sono riusciti a dirmi è stata ma hai provato ad aspettare un minuto dopo aver cliccato resetta l'impostazione del wifi quindi neanche loro daremmo sono stati capaci di risolvermi i problemi che una stampante da 700 euro che si chiama Smart non dovrebbe avere cioè problemi così banali come il connettere sia wifi o il connettere sia bluetooth magari l'applicazione è buggata però ho provato sia da Android sia da iPhone niente neanche con Android non c'è verso a una certa dopo tre giorni di tentativi penso più di 40 45 50 volte che ho cliccato quel pulsante resetta le impostazioni del wifi dopo tre giorni a una certa mi si è connessa bello carino sull'applicazione c'era appunto la stampante visibile potevo aggiornare i film da remoto potevo guardare la telecamera da remoto mi diceva guarda la scheda SD è presente il piatto è presente dico vabbè vado a prendere la webcam per mostrargliela nel video almeno la mostro ai ragazzi come funziona il tempo di prendere la webcam già si era disconnessa e non si è mai più riconnessa la stampante purtroppo la webcam la vedi solo dal loro cloud dalle loro cose varie quindi l'ho connessa ma attualmente visto che la stampante non mi si connette al wifi la webcam è solo per bellezza bello il plugin di cura che ti dà proprio il tasto carica su Creality Cloud se Creality Cloud funzionasse sarebbe molto comodo perché proprio dal cloud si passano i file in maniera indiretta puoi caricarli sulla stampante stampare cose varie bel piatto bel dettagli rossi alluminio è una stampante che comunque si vede che punta a valere magari non i 700 euro che costa adesso però 550 secondo me li può valere non gli darei più di 600 ma se funzionasse tutto questo se funzionasse ah bello anche la luce ho scoperto che abbiamo un piccolo interruttorino qua per accendere la spegnela senza navigare nei menu ma il fatto non è solo che la stampante non funziona cioè al meglio il wifi non funziona è proprio anche tutta l'applicazione l'interfaccia che non si capisce niente dà sempre errori a caso ma non ti dice cosa devi fare ti dà dei messaggi generici finisci magari nella stessa schermata facendo un giro diverso che però non includeva non lo so cioè è proprio poco smart è poco intuitiva è poco non è qualcosa che chiamerai smart so che questo video non è la recensione dell'applicazione Creality ma della stampante però siccome quell'applicazione e il cloud e tutti i servizi la webcam e tutte cose comunque costituiscono una gran parte delle features di questa stampante sicuramente compongono gran parte di quel prezzo perché se non avesse tutta quella roba costerebbe ben meno perché è una stampante bella ma non sarebbero state 100 euro il fatto che sia tutto così poco smart mi fa dire ma porca vacca perché avete messo smart nel nome o perché me la vendete come smart o non lo so e poi a parte tutta la questione della connettività wireless c'è sempre questo cavo un po' vecchio ci sono i risultati del benchmark che parlano da soli ragazzi su una nota un po' amara direi che per questo video è tutto pollice in su comunque pollice in su al video mettetelo almeno per l'onestà o non lo so comunque se il video vi è piaciuto noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti